Allora, Matteo Renzi, buonasera intanto. Allora, insomma, lei doveva rottamare D'Alema, D'Alema doveva fare la guerra contro lei, poi invece vi siete solo bevuti un caffè lungo, un caffè lungo, un'ora. Io credo che sia davvero imbarazzante, quasi ridicolo. Le confesso che tutto il tema della politica è ruota intorno oggi all'incontro con D'Alema. E non perché io oggi a Firenze ho fatto anche altre cose che naturalmente non interessano, come è naturale che sia, gli spettatori nazionali, dall'inaugurazione delle case popolari agli interventi sulle strade. Ma perché lei ha dato una notizia che è sconvolgente, quella di 5,7 milioni di persone che alla luce della crisi stanno perdendo il posto di lavoro o addirittura rinunciano a cercarlo, che mi sembra molto più importante di ciò che accade a livello politico. Io sul livello politico dico solo questo. Solo che ci vuole un governo per superare questo fatto. Che facciano veloce, cioè che si sbrighino in un senso o nell'altro. Io personalmente ho detto fin dal primo giorno, per me bisognerebbe tornare a votare. Perché quando non c'è una situazione di chiarezza, uno torna alle elezioni. L'ha detto D'Alema? Ma D'Alema credo che abbia delle diverse, però non è che mi invita e poi mi fa fare l'interprete autentico del pensiero di D'Alema. L'ha detto lei a D'Alema? L'ho detto a D'Alema, l'ho detto sui giornali. L'interprete di se stesso, chiedevo di fare. Che gran mestiere, diciamo. L'ho detto a D'Alema, l'ho detto sui giornali. Io, fosse per me, il giorno dopo le elezioni, credo che sarebbe stato naturale dire, signori, non c'è una maggioranza, si torna a votare. Però, se vogliono fare un bel accordo tra Berlusconi e Bersani, che se lo facciano? Perché lo facciano veloce? Cioè, sono passati quanti? Lei lo benedirebbe un accordo? Io farei il tifo per l'Italia. Se questa è la soluzione che Bersani ritiene più opportuna per l'Italia, che Berlusconi ritiene più opportuna per l'Italia, lo facciano. Se non lo ritengono la soluzione più opportuna e vogliono andare a votare, vadano a votare. Si smetta però di inseguire Grillo con il cappuccio mascherato, con le follie di Grillo, talvolta anche insultanti e umilianti, e si parli dei problemi degli italiani. Ci sono le piccole e medie imprese che chiudono. Io faccio il sindaco, le garantisco che in questo momento andare nelle aziende e parlare con le persone, bisogna avere una bella faccia tosta, perché ti dicono, ma tu che stai facendo? Però scusi, lei lo sa benissimo, perché sarà politica parlata, però Bersani dice non si fa il governo col PDL, il PDL dice non si fa il governo senza noi, 5 Stelle dicono noi non facciamo il governo con nessuno, e una maggioranza non esiste. Se lei va da mia zia e dice, dato il problema, ci sono tre minoranze. Lo so, si va a votare, anche sua zia, ho parlato con sua zia, dice bisogna andare al voto immediatamente. Mia zia secondo me dice, mettetevi d'accordo. Allora Bersani ha detto dal primo giorno, facciamo un grande accordo con Grillo, e Grillo gli ha detto no. Ora Bersani deve scegliere, o va alle elezioni o fa l'accordo con Berlusconi. È stato un errore di Bersani? Beh, credo che l'errore, lo vedremo come direbbe il noto filosofo Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. A me basta che si faccia di corsa, basta che si smetta di pensare che la variabile tempo è indipendente, perché la variabile tempo significa crisi delle nostre famiglie. Però noi si sta andando verso una situazione per cui ci vorrà ancora un mese e mezzo prima di avere un governo, perché bisogna passare prima dall'elezione del capo dello Stato, il suo insediamento. Io spero di no, nel senso che il capo dello Stato sarà eletto a partire dal 18 aprile. Speriamo che anche in questo caso, sono probabilmente un po' arteriosclerotico alla mia età, ma spero che anche in questo caso si faccia veloce, e quindi vorrebbe dire, spero che il capo dello Stato rappresenti tutti. Il capo dello Stato non è una bandierina che ti mette in tasca a te, cerchi di fare un nome. Lei ha un nome per il capo dello Stato? No, assolutamente, non tocca a me, non sono neanche un grande elettore, sono un piccolo eletto di periferia, quindi non sono un grande elettore, spero che sia una persona che faccia bene per l'Italia come ha fatto Napolitano. Perché non è un grande elettore? Per molti aspetti è naturale, perché non c'è mai stato un sindaco tra i grandi elettori, però era venuta fuori questa ipotesi. Ma come era venuta fuori? Era venuta fuori dai consiglieri regionali della Toscana, mi hanno chiesto se volevo fare il grande elettore della Toscana, le dico la verità, l'avrei fatto molto volentieri, perché a me quelli che dicono, no, tanto non lo volevo fare. Quelli che hanno chiesto, chi gliel'ha chiesto? Consiglieri regionali del mio partito. E secondo lei chi ha, perché lei ha detto c'è stata una telefonata a Roma, Bersani ha detto che chiedete alla Telecom. Ce ne sono state molte di più. Molte di più da Roma. E fossi Bersani lascerei il discorso Telecom che apre 15 anni di storia, lasciamo stare. Lei dice Telecom. Lasciamo stare Telecom in generale. La scalata, il capitale di Torra Giosi. Rimaniamo a quello che è accaduto in questi giorni. C'era un'ipotesi, mi è stato chiesto una disponibilità, io l'ho data volentieri, perché è bello poter eleggere il Presidente del PD. Lei crede di essere un problema ancora dentro il PD? Ma perché? Perché noi vediamo una cosa che da fuori del PD, tanti dicono ci fosse Renzi, potrà. Da dentro il PD, no. Io penso che il PD prima smette di parlare di Matteo Renzi e parla dei problemi degli italiani, meglio è. Lo dico con amicizia, Bersani. Caro segretario, smette di preoccuparti di me. Anzi, guardi, già che c'è, smette anche di preoccuparsi di sé. Perché se inizia a preoccuparsi dell'Italia, se finalmente diamo un governo all'Italia, i destini personali delle persone vengono dopo. Quello che faccio io da grande non interessa a nessuno. Quello che fa l'Italia interessa. E quindi è anche quello che per la proprietà transitiva, neanche quello che farà la grande Bersani. Perché ha detto di preoccuparsi meno di sé? Perché secondo lei sta anteponendo la sua prospettiva di governo personale? Io dico soltanto che qualunque sia la soluzione, chi ha responsabilità oggi ha il dovere morale verso gli italiani di rendersi conto che anche se i numeri macroeconomici vanno meglio, lo spread, abbiamo visto che sta basso, 300 eccetera, c'è una situazione di emergenza che vuol dire crisi nelle aziende e nelle famiglie. Ma lei che ha una ricetta, nel caso, si interessa di fantascienza, ove mai lei diventasse presidente del Consiglio? Ho già perso un voto. Per assurdo. C'è una misura da fare subito? Assolutamente deburocratizzare. Guardi, può sembrare una cosa banale, può sembrare la cosa più stupida, ma tu oggi hai le aziende che muoiono e anche le famiglie, per la complicazione degli affari semplici che questo paese sta facendo. Ci sono troppi politici, troppi scartoffie, troppi timbri da mettere e un paese così pesante... Troppi uno dal suo punto di vista di troppo. No, guardi, se lei dimezzasse, guardi, iniziassero a dimezzare i posti in Parlamento, c'è una proposta di legge che si può fare subito. Lei è presente nel Senato con 315 senatori, fa le stesse cose che fa la Camera con 630 deputati. Se noi dicessimo che il Senato diventa la Camera delle Autonomie, cioè che vuol dire che ci vanno i sindaci e i presidenti della regione a 0 euro, noi abbiamo immediatamente risolto il problema... Un terzo delle spese in meno, visto che sono... Un terzo delle spese in meno. Parliamo delle province? Così, ovviamente... Molte, ma abolite, ma solo un po'. No, no, lei dice... Aboliamo, lo sappiamo, la leggiamo, aboliamo il finanziamento pubblico dei partiti, che è il rimborso delle spese elettorali, detto in termini burocratici o ufficiali, e aboliamo le province davvero. Senta, ove mai, sempre per assurdo nella ipotesi fantascientifica... La vedo entusiasta su questa proposta, la vedo entusiasta su questa proposta. No, magari o non entusiasta o scaramantico, scelga lei. E si impegnerebbe già, ora per allora, di non fare scherzetti, lavoretti alla cipriota? Prelievi forzosi... Guardi, io penso che ci sia bisogno di grande trasparenza e di dire le cose in faccia. Lei prima mi ha chiesto dell'incontro con D'Alema, pongo un problema di metodo. Se c'è una cosa bella in chi fa politica in modo serio è dire le cose in faccia. Io quello che penso di D'Alema l'ho detto in faccia, e lui l'ha ridetto in faccia a me, e anche in trasmissione televisiva, in modo anche molto duro. Però a me non piacciono le persone che fanno i doppio giochi, quelli che ti dicono una cosa e che poi fanno il contrario, come è accaduto anche nelle ultime ore, che ti danno degli affidamenti e poi ti fregano. A me piace l'idea di un politico... hanno grandi potenzialità. Quindi non metterebbe le mani nei conti corretti. No, tu devi avere il coraggio, se hai bisogno di soldi, di raccontare per cosa li spendi, dove li vuoi prendere e come li metti. Non fai le manovre notte e tempo alle otto e mezzo di sera quando le banche sono chiuse o quando la borsa è chiusa. Se però smettiamo di ragionare dei nostri destini e parliamo di visione dell'Italia dei prossimi vent'anni, beh, chiunque sia il Presidente del Consiglio, chiunque sia il Presidente della Repubblica, l'Italia ha un futuro. E nel futuro lei esclude di lasciare il PD? Perché sa che molti dicono se nel PD ti chiudono la strada, fatti una lista tua, fai un'altra cosa. Come diceva quello che fa, mi caccia, no? Che fa, mi cacci, no? Assolutamente. Io credo che questo Paese abbia troppi partiti. Allora ce ne devono essere solo un. Ecco, quali esclude? No, secondo me ci deve essere il centro-destra e il centro-sinistra. Io sogno un partito democratico che sia un partito democratico di Obama. Che vada a Fioroni a Vendola. Ora, parlo di Obama, lei mi parla di Fioroni, è un colpo al cuore. Queste cose non si fanno in diretta. Lo voglio dire, da Obama a Blair, lei mi parla di Fioroni e con questo adesso vado a riprendermi con i sali. Obama e Blair, come lei sa, non votano da noi. No, lo so, però... Quelli sono i suoi, quelli sono i suoi. Ci siamo capiti. Io non lascerò mai l'idea di prendermi, non accetterò mai l'idea che siccome qualcuno non mi vuole, gliela do vinta andando via. Non si fanno partiti personali, ce ne sono anche troppi. Allora, grazie Matteo Renzi. Vediamo insieme proprio quel servizio sul lavoro che non c'è. Grazie. Grazie.